Ok, dovremmo essere in live! Niente. Vediamo. Ma che cosa sta succedendo? Non riesco a vedere la mia live, un secondo. Ma... Ma non riesco a vedere la mia live. Bella Vrex! Bella Kiko per il periodo in live! Come state? Tutto bene? Ma porca! Si è bugato tutto, ragazzi. Si è bugato un secondo tutto. Si è bugato tutto, raga? Bella Nessio! Bella Vincenzo! Bella King! Bella Vrex! Come state, raga? Tutto bene? Come state? Ciao Fede! Come stai, Fede? No, Vrex, non so chi sei. Aspetta, dammi un'idea di chi sei. Benvenuto a tutti! Raga, mi si sta buggando l'intero mondo. Un attimo. Datemi un secondo di tempo, eh. Che mi si sta buggando tutto quanto il telefono. Un attimo, raga. Non riesco a salutarvi. Mi si sta buggando tutto l'intero mondo. Ok, ci dovrei essere. Bella Davide! Un saluto! Vabbè. Assurdo. Bella Alex! Come stai Alex? Bella! La titta chiama Davide, che sarà molto probabilmente... Non mi viene il nome. Però ho capito chi sei. Bella Varo! Mentre su Fortnite. Vai, che t'aspetto! Sono inutile al secondo... Ah! Tu, diciamo, come stai, Rex? Come stai, gamer? Ti vado a ripassare. E appena finito, ritorno. Stai tranquillo, Fra! Raga, io comunque per dirvi domani... Non so se domani sera, ragazzi, farò la live, eh. Jesse, ecco Jesse. Non mi veniva. Non so se, ragazzi, domani farò la live. Benvenuti a tutti! Mi raccomando! Lasciate un bel like ozzo, se non la siamo in otto. Mi raccomando. Lasciate un bel like ozzo alla live. Se non l'avete fatto. E mi raccomando. Condividete la live vostra con i vostri amici, eh. Che più siamo e meglio è. Ma? Ma, ragazzi? Ma? Non ho capito? Ma no, vabbè. Ma io mi dissocio da quello che sto vedendo. Guarda, non vi spiego quello che sto vedendo. Bella Marco! Bella squalo! Facciamo le sfilate! Come state, ragazzi? Passa, Tommy. Allora, raga, la passa ve la scrivo subito in chat. Come state? Tutto bene? Tutti quanti quelli che sono in live. Come state? Che cosa mi dite? Ah, raga, la password è... Ditemi se va, eh. Ditemi se va. Questa è sempre una password molto ignorante. Come esso. Ryu76. Una password molto ignorante. Facciamo le sfilate, sì! Facciamo le sfilate, bello! Ryu76, tema libero. Ma raga, entrate tutti! Entrate tutti, oh! Mi... Mi pen... Ma no! Marco! Marco! Ma che fai, fra? Ma non dovevi farlo! Fai niente. Ma Marco! Ma che fai, fra? Mi stai simpatico di te questi due euro. Ma grazie, brother, ti voglio bene. Ma ti faccio un cuore. Bibi! Come stai, Bibi? Ciao Marco! Grazie Marco, ti voglio bene. Ma non dovevi, fra? Ma non dovevi, davvero? Grazie di cuore, brother. Ti voglio bene. Ti voglio davvero tanto bene. Non dovevi. Non dovevi, fratello. Grazie davvero, ti voglio tanto bene. Ma... Sai qual è la cosa? Ma Ale, ma tu hai visto da... Da quello là... Quanti spettatori ha? Sì, ma come fa ad avere tutti quanti quegli spettatori? Così a caso? Cioè, da 15 spettatori che faceva ora è una 50? Boh! Vabbè. Vabbè. Ok. Come stai? Cioè, Marco, come stai? Che cosa mi racconti? Ma che cosa mi racconti? Ma come fa? Ma perché io sono sempre allo stesso punto? Sempre con 8 spettatori? Che palle! Beh, ma boh... Se io porto... Porto felicità, boh! Vabbè, quello manco... Mamma mia, mio... Io non parlo, perché mamma mia... Guarda. Basta, vaffanculo. Marco, sai qual è la cosa? Uno che fa il money grabber... In questo momento ha 50 spettatori. Marco... Marco... Ma Marco No succede che qua Qua rompono se urlo Rompono proprio tanto Ma Fra che cosa fa Che cosa Fermati Fra fermati Fermati Bella Simo Ti dico subito la password Come stai Ma Marco ma che fai Stiamo calmi Fra stiamo calmi Ma ti voglio bene Come stai bro Così Ma Fra Ma che cosa stai facendo Grazie Marco Ti voglio bene No sai cosa Sai di cosa Ti stavo parlando Marco Stavo parlando che uno In questo momento Che lo sa pure Alle pera Ti può confermare anche lui Fa il money grabber Fa le cose Possiamo dire Fake In questo momento Sai quanti spettatori ha Sai quanti spettatori ha Aspetta che te lo dico 40 spettatori Da fino all'altra volta Che Qualche Settimana fa Qualche giorno fa Ne faceva 20 15 Ti sembra normale Da te una roba del genere Ti sembra normale Non lo so Posso farti il regalo No 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 Allora Tu già Tu già Mi hai sostenuto Fra Tu già mi hai sostenuto Troppo davvero Mi hai sostenuto tutto Non è normale No Che ha 45 spettatori In questo momento No no Pera Non ha 45 Non capisco il motivo Non capisco Ti giuro Non capisco Ma Marco No Fra è buggato È buggato Fra Marco Ma Marco Faccio il filate Sì Bella Black Bella Dani Come stai Ma Marco Ma stai fermo Fra Ti voglio bene Ma stai fermo Niente Però sapete Una cosa Con fronte a lui Che io non posso fare Io non posso urlare Io Ale Sai perché Non posso avere 60 spettatori Sai perché Non posso avere 60 spettatori Non posso urlare Non ho colorazioni Nella webcam Non Non posso far nulla È ovvio che non avrò mai Gli spettatori I video È ovvio che non avrò mai 40 spett 50 E mi sembra giusto Grazie Marco Ti voglio bene Ringrazio Quelli che sono in live Ringrazio Tutti quanti Quelli che sono in live È ovvio che non faccio 50 spettatori Come lui In questo momento È quello che mi aspettavo Da te È un capo di sorriso E felicità Da oggi Si va nel live Grazie Brother Grazie davvero Non dovevi Davvero Non dovevi Fratello Non dovevi Davvero Grazie Grazie davvero Ti voglio bene Non so come ringraziarti Per avere 50 spettatori E credere a ciò che fai E non pensare agli altri Che ti invitano Eh Lo so No no ma questa non è invidia Che ho contro di lui Marco assolutamente Ma è proprio È il modo Di come YouTube Si è fatto È proprio il modo Come YouTube Si è fatto Perché la gente Va a credere A una persona Che Fa Non è che Fa i contenuti fake Non è che fa le cose fake Però Istica Istica donare Istica Vediamo se questo fa L'upgrade Dell'abbonamento Vediamo se Non c'è Non c'entra che Si ha a 15 anni Tanto poi appena A 15 anni Può fare quello che vuole No Cioè se non lo faccio io Bella Black Come stai Tommy scusa tanto Non ho potuto fare la ricarica Domani ma buono Ma sei tranquillo Black Ma stai tranquillo Fra Ma stai tranquillo Vada bene Aspetta Aspetta Stai tranquillo Fra Fra è sfilata Sì Simo Marco No raga Fermatele Per favore Raga Fermate Marco Marco Non posso urlare Ma quanto sei fortunato Che non posso urlare Marco 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 qua c'è scritto ah qua c'è scritto in alto a destra c'è scritto 2 su 5 abbonati 9 motte, devo mettere 3 perché Andrea sta continuando a donare fermati fra fermati davvero mi hai sostenuto già troppo mi hai sostenuto già troppo fra stai fermo stai fermo fra e marco è una bel infermabile ma fermatelo simon fermatelo fermatelo raga fermatelo per favore fermatelo raga fermatelo davvero marco ti voglio bene ma stai fermo stai fermo ti giuro bella nizer come stai bella ragazzo come stai e ragazzo è già cattivo ragazzo vedendo la gente per strappare un capo di sorriso no ma fra davvero per me è donato troppo fidati di me è donato troppo fidati di me marco usa l'ultima emote che ho messo usa l'ultima emote che ho messo fra usa l'ultima emote che è bellissima quella che piange ho speso tipo troppo ma è bellissima 30 euro costa quella emote madonna quella emote costa 30 euro madonna mia oh madonna 30 euro ma l'ho fatto per voi l'ho fatto l'ho fatto per voi ma è bellissima troppo bella quella emote troppo troppo madonna mia posso giocare alla sfilata dopo ovvio carlo benvenuti in live come stai carlo tutto bene tutti quanti a parco raga la password ah fra l'avevo spammata prima non è rientrato non è rientrato simo scusami scusami tanto scusami simo cioè se non l'avevo spammata scusami se non l'avevo spammata tanto è che l'avevo scritta non l'avevo bloccata nel messaggio sopra scusatemi raga perché non è riuscito a entrare dove posso venire nel server ma è ovvio che può entrare tutti quanti possono entrare se vuoi venire a giocare con me a farle duo vieni eh eh ti faccio entrare subito fra ti faccio subito entrare non ci sono problemi eh quando vuoi sono qui quando vuoi io sono qua io raga vi ricordo che se superiamo i 30 spettatori gioco anche con i fan quindi mi raccomando mi raccomando vi chiedo solo solo una condivisione se volete mettere un bel like per supportare la live mi raccomando che raga più se è meglio eh mi raccomando eh quante volte ho detto mi raccomando non lo so neanche io non lo so neanche io quante volte ho detto mi raccomando troppo accendo la play dammi il tempo di farmi arrivare la voglia di stare a letto e arrivo quindi è tipo il tuo cervello sta dicendo vabbè dai è live devo accendere la play allora mi alzo no non mi alzo aspetta un attimo 5 minuti mi alzo sono passato 5 no dai c'è altri 5 minuti no 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 non posso alzarmi tra 5 minuti vabbè dai mi riposo mezz'ora e dopo mi alzo vabbè no ho riposato mezz'ora ma mi alzo tra tra altre due ore allora posso dire una cosa ma dimmi tutto dimmi tutto quello che vuoi sei libero di quello che vuoi dimmi dimmi fra dimmi tutto benvenuti comunque a tutti quanti con i nuovi live vi ricordo per la quindicesima volta di entrare nel mio bellissimo discord tutti quanti quelli che sono in live raga ve lo raccomando e di andarmi a seguire su instagram e se volete anche su tiktok perché là ci sono le cose davvero molto trash posso andare nel server ovvio mars benvenuti in live come stai mars tutto bene no 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 ragazzi porco marco marco ma io non so come fermare come ma perché non ti bloccano la carta ma perché non ti bloccano la carta oh mio dio grande mars devi stare sempre bene fra in live con tommy devi essere sempre migliore in forma ma marco ma 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 ragazzi ma che cosa gli devo dire che oltre che gli voglio bene ma che cazzo che cosa gli dico madonna non so ma non so come ringraziarlo ma non so mamma mia mamma mia mamma mia puta richarderia puta era quella la cosa che volevo dirti eh 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 cioè mi sembra corretta come cosa nel senso vorrei dire ma te l'ho pay i toti di voi quelli che sono qua ragazzi madonna marco stai donando un sacco di soldi fra Davvero per me Mi stai dando un supporto enorme Il fatto che Sto usando la carta E sto usando E sto usando i soldi su play store Ma? Ma? Il fatto No aspetta ho letto male io Ma il fatto che non sto usando la carta E sto usando i soldi Sto usando i soldi Delle Della play Del play store Che? Cosa? Non ho capito? Come cazzo è possibile? Bella Dico Come stai? Ma come i soldi del play store? Da quando? Per le store? Ma gli freghi I giochi ti prendono i soldi Ma cos'è? Cioè ha ricaricato Ha ricaricato la playstation E sta donando tramite Il soldi del play No 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 Non è una roba fattibile Sta roba qua fra Ma che stai a dire? Bene Emanuele Benvenuti in live Come stai? Bene Antonio Come stai? Ma Marco Ma come stai donando? No io mi dissocio Raga io mi dissocio Da quello che sto facendo Marco Ma Marco ma stai scherzando? Ma stai donando? Ma come fai a donare Con i soldi I soldi del play store? Ma come Come è una roba Fattibile? Oddio ma Questa è una burata Ma come fai? Bella Antonio Benvenuti in live La prossima Dove ci spazio? Marco 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 Ma come fai a doare Oh, 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 oh. Bella, Silvia, benvenuti in live. Come stai, Silvia? E' proprio il salto... Ah, ma nel Play Store. Ah. Madonna, che scemo che sono. Ho finito i soldi. Ma non... Ma è perfetto che hai finito i soldi. Ma basta, non devi più donare. Ho donato troppo. Ma hai donato 11 euro. Mi raccomando, usali bene. Sì. Li terrò. Li terrò questi soldi. Non li spenderò. Li userò per il canale. Per fare delle nuove mod. Dai, ma che fai, Marco? Ma che Cristiano Ronaldo fai? Marco, mi sono proprio comprato... Mi sono proprio comprato un mouse. Oggi. Lo dico a Marco, Ale. Per tutti quanti quelli che sono in live. Mi sono comprato un mouse. Che domani, live su Twitch... Sapete cosa andiamo a fare? Andiamo a giocare, ragazzi. A New World, nuovo gioco. Andiamo a giocare a New World, raga. Il pomeriggio... Non so se domani farlo. Se domani è pomeriggio. O dopo domani. Forse martedì, raga. Da martedì iniziamo a giocare a New World. Solo per voi. Quindi mi raccomando, seguitemi tutti, eh. Sempre sfilata, Silvia. Sempre sfilata. Scusatemi, raga. Sempre sfilata. Comunque grazie, Marco. Grazie di cuore. Ho ti... Ho ottimato la mia voglia di calciarvi dal letto adesso arrivo. Oh, finalmente. Grazie davvero. Grazie davvero, brother. Non so come ringraziarti. Bella Carlo. Ecco di qua. Allora, la pace te la dico subito, eh. Turururu, tutto. Mamma mia, davvero. Non so. Ma ciao Sascha, benvenuto. Come stai? Bella Gino. Come stai Gino? Tutto bene? Come stai? Come stai Gino? L'ha donato 5 euro. Calmati, bro. Ma almeno io non faccio il money grabber. Nel senso... Ma in verità non mi hanno donato i 5. Mi hanno donato i 11, fra. Mi hanno donato i 11. Ma almeno William non voglio fare il... Il money grabber che non ringrazio. Scusami, eh. Cioè, non voglio fare il money grabber che non ringrazia. Scusami. Anche se una persona mi dona un euro, è sempre rispetto ringraziarlo. Cioè, non è che se mi dona... Non devo salutarlo. No, non sarebbe una cosa giusta. Acquaman, hai rotto con sto Marco? Ma... Se non ti piace la live, ma vai via. Se non ti piace la live. Se non ti piace la live, ma puoi andare via, fra. Cioè... Te lo dico col cuore. Sì, Ale. Se sono fortunato. Allora, raga, la passe è 8-8-2-2-2. No, comunque davvero... Non ringrazio davvero tanto. Cioè, non posso neanche più ringraziare per una persona. Se volete, la prossima volta non ringrazio neanche. Cioè, cosa significa? Non lo so, raga. Tutto, tutto. Ma, William, se vuoi... Non so. Se vuoi, lo faccio un money grabber, che lo ringrazio solo una volta. Raga, la passe è 8-8-2-2-2. Ma la live è bellissima. Grazie, Silvia! Grazie mille! Grazie mille. La passe è bella, Drex! Come stai? Tutto bene? La passe è 8-8-2-2-2, raga. Detemi se va. Il mio D è questo, Marco. Te lo scrivo subito. Ponte schema TVD. Cioè, io, ragazzi, ho sempre detto che non voglio essere uno youtuber che... Non vuole fare la persona che ringrazia o comunque che non saluta. Anzi. Anzi. Ah, coppia, coppia, coppia. Sì, raga, coppia, 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 Drex. Comunque, bella. William, benvenuti in live! Spero che ti faccia la live. Ciao, bello! Raga, fatemi vedere un attimo una cosa, intanto. Mi vuoi posare? Ovvio, Sasha. Posiamoci subito, Fra, subito. Ti prego. Posami. Come non va? Come la password non va? Allora, aspettate un attimo. Che la cambio. Che la cambio. Bella, Francia! Il boom! Bomber, benvenuto! Come stai, Fra? Ma è da tantissimo che non vieni. Marco, dimmi appena mi invi la richiesta, Fra, che lo accetto subito, eh. 4, 4, 7, 7, 7. Vai, ditemi, ragazzi, funziona. Pazzo, 4, 4, 7, 7, 7. Posso giocare con te? Ragazzi, siamo più di... Che ne so, più di 25 e inizio a giocare con voi. Siamo più di 25. Bella, Giospi! Benvenuto! Benvenuti in live! Pazzo, 4, 4, 7, 7, 7. Come stai, Giospi? Io so. Tata, tata. L'hai sbagliata? Come è sbagliata? Sporai, 4, 4, 7, 7, 7. Come è sbagliata? Tata, tata, tata. È sbagliata. Ma fra, ma è questa la password? Sarai che questa è la password? 22999. Non so perché le password non funzionano. Pazzo, 22999. Sono ritornato! Bella, brother! Allora, Pazzo. Scusatemi se sentite il rumore di sottofondo. 22999. Ok, ve l'ho riscritta, eh. Marco, dimmi appena mi ve la ricerca. E' giusto, è giusto, Simo. Ora funziona. 22999. Bello, Lucchino! Benvenuti in live! Come stai, Lucchino? Midnight. 10 dollari. Ok, te la vio subito. Aspetta. Alfa. Trattino basso. Marco. Marco 08? Giusto? Vai, ci sono. Perfetto! Alfa. Perché? Non mi trova? Fra, non mi trova il tuo nick. Rimanda amicizia, raga. Se siamo... Sì. Sì, raga. Ah, ma per forza che... Madonna, che stupido. Madonna, che stupido. Ce l'avevo là davanti. Ora sei ricco. Sì, raga, sei ricco! Con i soldi del Monopoly si è sempre ricchi, ombra. Non si buttano mai, Lucchino, i soldi del Monopoly. Non si buttano mai i soldi del Monopoly. Tutto, tutto, tutto. Per ora, raga, ve l'accetto, eh. Per ora. Allora. Raga, funziona la patchwork. Funziona, Mars. Funziona, funziona. Tommy! Dimmi! Allora. Raga, scusatemi se sentite troppo casino, eh. Ma qua... Ah, mio Dio. Ale, è per questo che non riesco a fare 40 spettatori. Guarda che bordello che c'è. Guarda. Guarda te. Come posso fare io lo youtuber? Come faccio a fare l'intrattenitore con questa merda di televisione? Ah, raga, voglio ritornare come un... Qualche settimana fa, vi giuro. Non sopporto tutto ciò. Non sopporto tutto ciò, vi giuro. Di niente, di niente. Silvia! Raga, siamo 11 like. Mi raccomando, ci puoi dare like! Anto! Raga, Anto, no? Un po' più Anto, ragazzi. Quello che vedete in live. Il signor Anto, ieri, ha fatto un qualcosa di... Cioè, ha donato 50 euro. Vorrei dire. Non so se sia una cosa normale. Non me lo scorderò mai, Anto. Ti vuoi aiutare a fare qualcosa che ti può aiutare. Tipo? Te lo ho mandato all'amicizia. Ok. Ora te lo ha scelto subito. Fratello. Perfetto. Toccato la città. Let's go! Posso entrare in lobby? Raga, stasciamo un po' di più. Stasciamo un po' di più, raga. Vi invito a tutti. Vi invito. Bene, la brand K7. Come stai? Come stai, Matt Walker? Come state, raga? Tutto bene? Per essere mod, non ci bisogna chiedere. Dobbiamo essere... Non tanti. Che cosa stavo dicendo? Dovete essere molto attivi, raga. Raga, ma il... La musica di sottofondo, non questa. Ma proprio il rumore di sottofondo. Si sente tanto alto? Si sente tanto alto o poco? Ditemi un po'. Come si sente? Scusatemi, davvero. Ora te l'accetto. Ora te l'accetto, Marco. Te l'accetto, te l'accetto. Raga, entrate. Si sente poco o niente? Si, sicuri? Si sente poco o niente? Un po'. Che palle, ragazzi. Non c'è qualcosa per risolvere sta roba, raga. La chiave personalizzata è questa, Matt. Te l'ho scritta. Te l'ho scritta, frate. Te l'ho scritta, te l'ho scritta. Io... Io sto con me. Questo, raga, è il codice. Entrate tutti! Io sono triste. Perché se triste non è rubato abbastanza bambini oggi? Non è rubato abbastanza bambini, fra? Che cosa è successo? Posso startare? Si, starto subito! Raga, vi ricordo, chiunque live, se arriviamo a 100 supporto in creatori, vi farò un bel regalo. Farò un regalo a qualcuno di voi. Quindi, mi raccomando, mettete il coggetto a me e le due nello shop. Mi raccomando! Mi raccomando, regga. Tu, ru, ru, ru. Alepera, ragazzi, è impazzito. Ci ha fatto di troppe pere oggi. Il nostro Alepera è impazzito! Troppe pere c'è fatto. Black dice sei un pirla. Aleh. Buon per te che ci credi. Bella! Allora, aspetta un attimo. Inviami le richieste per entrare, Marco. Almeno te l'accetto. Sai che... Vai, raga, tutti quanti parco, eh? Sai che anche io sono un massimo che sono fatto a non venire per rispetto femminile? Ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta. Nel senso... Io per fortuna non faccio ste cose. Per fortuna, nel senso, no, no. Per fortuna, no. Non mi piace questo tipo di cosa. Bella, Dark! Da quanto tempo! Come stai? Come stai, Dark? Mars, ho appena assartato! Ho appena assartato, Mars e Matt e Walker, se volevate entrare. Raga, ho appena assartato. Ma no! Ho appena assartato, raga! Ma perché? Ma non siete riusciti ad entrare? Scherzando, lo so che stavi scherzando. Ma comunque... Bella, Black! Benvenuti in live! Vero che ti piace il canale, bellissimo! Benvenuti in live! Cosa mi racconti, Black? Bella, Luigi! Da quanto tempo! Come stai, Luigi? Come stai? Da quanto tempo che non vieni? Il piccone... Che ha quanto costato? Raga, questo qua... Cioè, su Eneba, lo potete trovare su Eneba? Lo potete trovare da tante parti a 3 euro. A 3 euro, raga! Lo potete trovare su... Oltre Eneba? Vi posso dare tanti siti. Eneba, G2A... Da tante parti lo potete trovare. Bella, Manu! Come stai, Manu? Grande, Luigi! Grande, fratello! Guarda i miei racconti! I miei amici mi prendono in giro perché non so giocare. Ma no, Fran, ma c'è la mente. Ma perché non ti prendono in giro in vita reale? Cioè, nel senso... Perché non... Non vi incontrate? Almeno voglio vedere se... Ti prendono ancora in giro, scusa. Perché non parlano faccia a faccia? Cioè... Se parlano, parlano. Però in vita reale dopo non... Hanno paura, sicuro. Allora... Oggi ti sei fatta la doccia? Eh no, essendo che... C'era di nuovo Manu, Fran, non mi sono fatta la doccia. Potete killarmi, ragazzi, questo, per favore? Ve lo potete killare? Potete killarmene? Ve lo potete killare? Niente. Potete killarmi sta gente, ragazzi? Se ne ho quello di tre di te? Con il piccolo rompichiaccio. Uh! Dove sei? Aspetta, non ti ho visto. Comunque benvenuto a tutti. Il piccolo può uscire nello shop di Fortnite. No, Fran? Non... No. Grande, Giulio! Grandissimo! Sei tu, Marco! Sei tu! Sei tu! No, aspetta, dov'è? Sei tu! Maracolo! Grande, Marco! Faccio gli sfilati, sì, Luigi! Sì, Fra! Sto scherzando, lo so, lo so che scherzi. Grande, Marco! Marco, sei vicino a me, almeno capisco cosa è te. Benvenuto a tutti, siamo in 25! Vi ringrazio a tutti quanti qui che sono in live! Come state, bella santo! Ti ha ucciso? Chi è che ha ucciso, Simo? Di dopo lo segnalo. Chi è che ha ucciso, Fra? Se qualcuno ha abbonato al 50 al mese, no, per fortuna no, ma Anto ieri ha fatto una roba assurda, quindi conviene non parlare di quello che ha fatto. Mi saluti, Marco! Ti saluto, bella, santo! Cosa mi racconti, santo? Faccio una cosa domani e vado a tutta casa sua. No, vabbè, no, questo no, però... Fagli capire che con te non si scherza, ecco. Inventagli qualche frase per farlo spaventare, Fra. Diggi qualche frase per farlo spaventare. Che se... Se gli vai sotto casa sua, dopo voglio vedere se si diverte ancora. Inventagli qualche frase che gli può far paura. Latina rucinosa. Questa, perfetto. Dopo lo segnalo. Dopo mi puoi riscrivere il nome che lo segnalo? Fai il copio in colla del nome, dopo me lo riscrivi, appena finita la partita. Fatemelo fare tutti di voi, raga! Fatemelo farei! Eh no, Black, non posso, scusami. Non posso, Black, perdonami. Fatelo fare tutti di voi. Io sto male. Perché stai male? Che cosa è successo? Santo... Chiamare la mia ragazza Spongebob. Ma no, ma povera... Ma povera ragazza! Ma che... Ma povera ragazza! Ma poverina! Grazie, Simo! Vai, fatelo fare tutti di voi, raga! Fatelo fare tutti di voi, per favore! Fatelo fare tutti di voi, almeno finiamo la sfilata. Perché lavi i piatti. Ma... Ma povero Spongebob! Povero Spongebob! Che cosa ho fatto di male? Non si meritava tutto questo. Spongebob, poverino! Io, raga, vi ricordo che chiunque si iscriva al canale... Compare qui, raga, eh! Chiunque si iscriva al canale compare qua, raga! Alla... Alla mia destra. Alla mia destra compare. Fatelo fare tutti di voi, vi prego! Sennò vi devo killare! Fatelo fare, raga! Fatelo fare! La sbo è l'ingrediente segreto da... Da carità. E non si può neanche parlare. È assurdo. Non si può neanche parlare, oh, ma è assurdo, eh! Mamma mia! È assurdo, ragazzi! È assurdo! Una persona come me non può farle live perché viene rotto i coglioni dai genitori. Mamma mia! Che vita di merda, ragazzi! Che vita davvero di merda! Che vita davvero di merda! Grazie, Fortnite! Ti voglio bene! Bella, team! Come stai? Tutto bene? Che vita, ragazzi, eh! Che vita! Che brutta vita! Come stai, Fortnite? Qual è la password? Sono in partita, va! Fammi idea della tua emetica! Bella, Gabriele! Benvenuti in live! Bella, Shiam! Come stai? Raga, per favore. Un like, una rottura di palle in meno. Un like, una rottura di palle in meno dentro a casa mia. Allora. Poi c'è il mio canale e lo faccio su Pines e Ferb. No! No, mi dissocio, Dark, da quello che ho sentito. Allora. Comunque. Comunque, raga. Io ero in chiesa, ero fuori di sera e c'era freddo. Capito? È stato prima. No? Non ho capito la tua frase. Però non ho capito la tua frase. Comunque, perdonatemi per prima. Dopo, 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 dopo me lo segno, Simo. Lattina. Lattina rugginosa. Ok, dopo, raga, l'ha segnato. Io me lo segno. Dissocio da quello che ha scritto. Ma perché? Perché, ragazzi, devo essere lo sfigato io? Che non riesci a fare una cosa per bene. Oh, deve avere sempre un problema, oh. Sempre un fottuto problema. Gli altri possono fare le live tranquilli. E io non riesco a fare le live tranquilli. Ma è assurdo. Ma è assurdo. Sempre la sfigato la live, eh. Porca putta. Allora. Fatelo fry, ragazzi, tutti voi. Perché siamo qua davvero. Siamo qua da mezz'ora a fare questa sfilata. Anche gli altri devono giocare. Su. Per favore, santo Dio. Ve lo chiedo, vi prego. Fatelo fry. Guardate. Stati guardando la live. Scusatemi, ragazzi, se vi sto... Se vi sto... Forse urtando. Però, devono giocare anche gli altri. Devono giocare anche gli altri, ragazzi. Fatemelo fry. Oh. Però, scusami. Scusami, scusami. C'è la vita. Let's go per l'Italia. Allora. Vediamo un attimo, eh. Fatemi vedere la vostra demetica, per favore. Veloci, raga. Fatemi vedere la vostra demetica. Venite qua e vi prego, fatemi vedere la vostra demetica. Puoi segnalare zampa accurata ma ha ucciso. Subito, Ghost. Benvenuto, Ghost. Come stai? Tutto bene? Come stai, Ghost? Zampa accurata? Allora, lattina... Lattina argentea, avevi detto. E poi zampa. Ok, farà subito lo faccio. Come stai, Ghost? Dov'è? Zampa accurata? Ecco, perfetto. C'era freddo. Ma c'era freddo fuori dopo che sei andato fuori dalla chiesa? Da quanto ho capito, eh. Non ho capito bene il messaggio. Raga, vi prego. Fatemi vedere il vostro maledetto... La vostra maledetta demetica. Vabbè, l'ho... L'ho segnalato, Ghost. Grande, Ghost. No, Fra, non mi piace. Non mi piace la... 27. Ti voglio bene, Giulio. Ti voglio bene, bellissimo. E niente, non riesco a farla sfilata, raga. Non riesco a farla sfilata. Dai, raga, let's go! Mi raccomando, iscrivetevi. Iscrivetevi! È gratis! Iscrivetevi, raga, è gratis! Se volete. Tutu, 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 tutu. Ma perché Ghost? Perché Ghost anche lui? Cioè, non penso che lui ha fatto qualcosa di male. No. Fra, non penso che ha fatto qualcosa di male lui. E riusciamo ad arrivare a 20 like, ragazzi? Siamo a 16? Il tema era faziale. Io avevo l'ho fatto e dovevi guardare il tema. E Fra... E... A me, a me, frate, ma non mi è piaciuto. Silvia, scusami. Scusami. Scusami tanto. E niente. Non riesco. Non riesco a farla sfilata! Sì, via, ora devo giocare con Marco. Prima, raga, gioco con i donatori abbonati. Prima, raga, gioco con gli abbonati donatori. Se voi siamo un po' di più... Gioco con tutti quanti i fan. Marchetto, dove sei? Marchetto. Marchetto. Dove? Mi riesci a invitare? Mi riesci a invitare? Allora... Raga, dopo vi invito a voi, eh. Vi invito dopo a voi. Pensiamo un po' di più. Raga, vi invito pure a voi. Se siamo una venticinquina di persone, come avevo detto, vi invito pure a voi. Marco. Marco. Eh, non ti trovo. Allora, dove sei? Oddio. Oddio, perché me non ti trovo? Eh, ti ho invitato? Carlino? No, non penso. Ah, ecco di Marco! Fai il creative, ma se faccio creative è peggio. Marco! Ehi. Ma buongiorno, ma come sta? Benissimo. Grande! Grazie ancora, eh, per quello che hai fatto, eh. Che non dovevi fare. Dammi il capo che ne diamo un po' qualcosa a fare. Ah, no, fra, metti privato, dammi il capo. Ok, sei fatto. Tenesci, esci, brother, per favore. Che facciamo? Mi manda la richiesta. Raga, mandatemela voi la richiesta. Mandatemi voi la richiesta. Mandatemela voi. Eh, niente, c'è troppo bordello. Allora, dammi il capo. Ok, ok. Tu, tu, tu. Tu, tu. Tu, tu. Tu, tu. Thank you. Allora, perfetto, ci siamo. Raga, la richiesta ve la manda se siamo un po'... Cioè, raga, mi dovete supportare se volete alla richiesta, per favore. Capitelo. Ah, Marco, se no che tu sei abbonato, ti metto il broderino. Eh, per tutti quanti chi si abbonano, metto il broderino. Tu, tu. La pass, allora, la pass, raga, ve la dico subito. Vai. Mettete pronto. Oh, ma si sente tanto alto, Marco, nel rumore di trottofondo? Tanto, tanto? No, no, non si sente tanto. A posto. Ah, la pass, raga, non funziona un secondo. Eh, che password mettiamo? Non so proprio che password mettere. Boh. Sì, Anto. Devo, devo modificare, fra. Devo modificare il titolo. Devo modificarlo. Guarda, vatta fu un secondo. Mi stiamo andando degli sticker. Marco stava con me. Marco stavi con un, un, un DREF? DREX? Sì, era con face bianco. Uh, attenzione. Però, raga, io non so che password mettere. Pepe? Pepe 55. Beh, che, 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 non, non, non so le password da mettere. Cioè, non mica metto Gabibbo. Penso. Che c'è? Allora, però, Pepe, raga, tutto quanto in grande, eh. Tutto quanto in grande, raga, Pepe 55. Tutto in grande. Ma, Tommy, indovina la mia età. Aspetta, vai, vai, parla, parla. Aspetta. Indovina la mia età. Eh, non sento un cazzo, scusami, davvero. Aspetta. Perché cazzo il volume? Vai, parla. Indovina la mia età. Indovina la mia età? 12. No. 15. Meno. 14. Meno. 13. Eh, bravo. Hai visto? Allora avevo indovinato. Ahaha. Bella. Merano. Benvenuti in live. Bella Elena. Mi saluti. Obvio che ti saluto. Bella Stefano. Come stai Stefano? Tutto bene? Ti doltre di? Fai punto schema TVD. Punto schema TVD. No, raga, davvero. Per me è importante. Mi potete dire se sentite? Come lo sentite l'audio di sottofondo? Perché se vi dà fastidio ditemelo. Provo a risolvere. Non si sente quasi nulla. Non si sente quasi nulla. Sicuri? Beh, tu me lo dici. Obvio che ti saluto. Bene, a fast. Basta che me lo dite però che non si sente altro. Bella Amin. Come stai Amin? Tutto bene? Raga, io vi ricordo. Allora, facciamo così. Essendo che tanti di voi lo conoscono New World. Allora, facciamo così. Ci arriviamo a 40 spettatori e regalo un gioco che si chiama New World, ragazzi, per computer. Forse tanti di voi l'hanno visto. È un gioco bellissimo, New World. Regalo New World. Costa 40 euro. È un gioco per PC. Che forse se qualcuno ce l'ha lo potrebbe dare qualcuno. A 40 euro, ragazzi. A 40 euro, ragazzi. 40 spettatori e loro lo regalo. A me deve arrivare. Lo voglio io. Guarda, se lo vuoi te, a 20 euro te lo do. Invece di 40 te lo do 20, Ale. Fra, non mi va. La pass, raga. La pass, ve l'ho detto. E questa, ve la sto spammando. Pepe55. Tutto quanto in grande, raga. Tutto quanto in grande. Quanto è questo New World? New World, raga, costa 40 euro. Invece lo do 20. Lo do 20 euro. Quindi se qualcuno di me lo vuole. Assolutamente. Fatta come lo dice. C'ho... C'ho proprio una copia. Una. Una... Una proprio a fortuna. Quindi... Penso che... Non so se... No. O la do o la regalo. Dipende da voi. Se siamo in tanti. Mamma mia. Regalare New World, ragazzi, costa 40 euro. Quindi... Non è poco. Pepe55, raga. La password. Pepe55. Salve tutti. Allora. No, raga. Aspettate un attimo che mi è muto. Che devo sentire... Come si sente l'audio. Un secondo, eh. Un attimo che mi è muto. Raga, ora parlo io con gli spettatori. Ma... I soldi nella carta... Ok. Non si sente. Non si sente l'audio. Aspettate un minuto. Oh, fra, fra. Tagli l'audio, fra. Tagli l'audio, fra. Fra, tagli l'audio, fra. Tagli l'audio. Tagli l'audio, Marco. Ecco, bravo. Come va? Ci ha fatto i punti? Stanno molto in live. Comunque, bella. Merano. Aspettare un minuto che mi sto mettendo in team. Ovvio, salvo. Benvenuti in live. Salvo, come stai? Tutto bene? Un attimo riavviate il gioco. Eh, raga. Però non posso aspettare tanto. Cinque minuti avvio. Bella, Ricky. Benvenuti in live. Come stai, Ricky? Tutto bene? La password da raga l'ho pammata. Devo fare in chat, cioè. La password, raga. Devo fare in chat. Devo fare in chat, ragazzi. La password. Arriviamo a 20 live. Cosa, dimmi? Tommy. Dimmi. Io ho vissuto il tuo canale per caso, perché su YouTube avevo cercato live Fortnite. E mi hai trovato? Assurdo. Ho visto la tua live e ho detto... Ma perché non andare in questa live di questo non famoso? Ci arriviamo a 20 like, ragazzi. Siamo a 16. Vai, vai, dimmi, dimmi. Aspetta, mi auguro che ti aspetta, tesoro. Dopo ti invito, eh. Dopo ti invito subito, Anto. Appena ho visto il tasto delle donazioni ho detto, perfetto, questo qua lo uccide di donazioni. No, ma perché? Allora... A me non mi conviene donare. Cioè, non dovete donare, raga, a me. Non mi dovete donare, a me. Come si fa a fare i punti che ho? Fate i punti a schiamativo points. Ma accettate l'amicizia, SIS. Accettate l'amicizia. Accettate l'amicizia. Però, raga, se volete che ve la lascio, condividetela live, mettete like se volete che ve la lascio. Mi raccomando, condividete il canale, condividete la live, andate a me e seguite sulle piattaforme. Perché io vi ricordo che martedì, martedì pomeriggio, andremo in live su Twitch. Quindi vi ricordo di fare il punto schiamativo Twitch, ve lo faccio. Vi faccio il punto schiamativo Twitch. Fate il punto schiamativo Twitch, andatemi a seguire su Twitch. Che, raga, là andremo a fare una bellissima live di New World. Sempre se non arriviamo a 40 spettatori, lo regalo qua in live. Quindi, mi raccomando. Raga, venite. Cioè, no, sto scherzando la... Il gioco già ce l'ho, quindi lo giochiamo a parte. Bella ti, benvenuti in live! Bella ci, benvenuti in live! La password di questa. Vai, dimmi tutto. Come faccio ad avere 10.275 punti? Perché tu, Fra, hai donato di più di 10 euro. Ah, ecco perché. Eh sì, più si dona, più una point. Ma cosa fai? Poi molto simpatia, grazie, Temo. Allora, in chat, quanta simpatia faccio da una 10? Vai, scrivetemelo. Anche non potendo urlare. Bella! Astronomi, benvenuti in live! Come sai, astronomi? Io dico un milione. Da una 10, vai, ditemi quanta simpatia vi faccio. Io dico infinito. 10, 10, 9. 100! Un, 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 uno punto infinito. Buonasera, mille su mille. Eccolo! Grande, Ciro! Aspetta, aspetta, tesoro! Infinito! 10! Ma grazie mille, ragazzi! Ma grazie! Grazie mille per tutti quanti quelli che sono in live. Vi amo! No, siamo a 19 like, comunque. Bella, Francesco! Benvenuti in live, Francesco! Come stai? Tanto, se siamo in più persone, sì, che te l'accetto la richiesta. Andando tra poco, raga. Tante minuti. A me non vale la password, devo riavviare. Per come non ti vale la password? Bella, Francesco! Però mi puoi invitare, raga. Se siamo, come ho detto, di più, intanto starto. Se siamo di più, raga. Vi invito. Se siamo, che ne so, 30 persone, 25, vi invito tutti. Uno per uno. Piano piano. Basta che voi condividete la like. Basta che voi vi supportate, raga. Se voi vi iscrivete, mettete like. Condividete. Fate tutto quanto. Fate tutte quante queste cose, raga. Andate a followare su Instagram, anche vi ringrazio. Andate a followare su Twitch. Se voi fate queste cose ogni giorno, raga. Io vi faccio entrare e vi accetto sempre la richiesta. Ma ti sveglio, ti ho detto, aspetta! Ma la gente voleva che pure startavo, fra. Dopo ti invito tanto. Dopo ti invito, Dark. Ti invito dopo, fra da me. Tranquillo. Andiamo sempre a park. Fai tranquillo, Dark. Bene, Sans. Benvenuti in live. Come stai, Sans? Dopo domani. No, no. Dopo. Dopo ti invito. Ma non mi faceva entrare. Ma come non ti faceva entrare? Ma come? Dove andiamo tutti quanti a parco, raga? Tutti quanti a parco? Faccio le sfilate. Yeah! No, Dark. Questa la finiamo subito. Dark, questa la facciamo veloce. Raga, fate l'off-prime già subito, eh. Appena atterrate, fate subito già l'off-prime. No, finiamo la sfilata subito. Dark, la finisco subito. Ti stalkerò a parco. No, non mi solterò, non ti prego. Bella, Margherita. Mi venite in live. Come stai, Margherita? Voi, raga, basta che condividete, fate cose. Vi ricordo, se volete, mettete il codice TOMMEL2. Che prima arriviamo ai 100 supporter e prima regalo cose. Mi raccomando. Più supporter siamo, raga, e più regali posso farvi. Ve lo ricordo. Lui, in off-camera, vuoi fare un po' di arena? Cosa? In off-camera, vuoi fare un po' di arena? Eh, sì, fra. Ok, andiamo a fare le sfilate. Ecco, hai visto? Abbiamo già finito la sfilata. Vado a restare, vado a restare. No, no, fra, esci, esci. Guarda, abbiamo già finito la sfilata, Dark. Hai visto con che velocità abbiamo finito già la sfilata? Perché ti ha ucciso? Hai visto con che velocità abbiamo finito la sfilata, Dark? Quintate tutti, per favore. Ma chi è che ti ha ucciso? Il fallito. Hai visto? È durata pochissima la sfilata. È durata davvero tanto la sfilata. Ci avevo messo i secondi, hai visto? Ti ho detto io. Sfilate. Bella Francesco. Mi regali una schiena e me non vogliono farmi la ricarica. Se vuoi, raga, ve l'ho detto. Mi condividete, condividete. Siamo in tanti, mi supportate nello shop. Più voi fate questo, e io più vi posso regalare delle cose. Dipende da voi. Bella Francesco, comunque. Bella, che verino. Tutto bene? Io sto tutto bene. Tu come stai? Vai, raga. Vi scrivo la pass e il tema tutto quanto. Vi scrivo, eh. Let's go. Vai, vi scrivo tutto, eh. Pass. La pass ve la scrivo un secondo. Un attimo che ve la scrivo. Vi scrivo tutto. Qual è il codice della mappa? Te lo dico subito. Tutto bene, grazie. Tutto bene, fra. Tutto bene. Allora, raga. Mettete il codice dell'isola. Dovete mettere la pass, che è sempre la stessa. Dovete mettere la pass, raga, che è sempre la stessa. Il codice dell'isola, ora ve lo scrivo. Ed entrate così. Allora, aspettate un attimo, eh. Posso entrare? Allora, inviami la richiesta. Inviami la richiesta, almeno dopo l'invito. Ma perché si buggano le motte? Dio santissimo. Allora. Un secondo che si sta buggando tutto. Tutto bene, Kenverino? Tu cosa mi racconti? Cosa è successo? Che è il solito qua, bambino, angi di merda, che è streamer sniper, ma tanto non capisce che io ci guadagno soltanto. Anche se è streamer sniper. Non fate 30 like e startiamo la prossima. Non lo so. Allora, raga, la pass. Bella schifo. Un secondo, un attimo. Non ho moderatori, raga. Non posso fare tanto. Non ho moderatori. Se avessi moderatori, forse sarebbe un'ottima cosa da fare. Che tema volete? Ditemi un attimo. Che tema volete, raga? Vi faccio scegliere a voi il tema. Che tema volete? Ti va a mettere il codice della mappa? Allora, per mettere il codice della mappa... Bella Antonello! È tornato dopo 4 mesi. Ma sì, a guardare la live. Bella Antonello! Allora, per mettere il codice della mappa, voi selezionate tutte le modalità, poi andate qua in alto, dove c'è scritto codice isola, cliccate codice isola e mettete il codice della mappa. Che vi sto spammando in chat. E dopo, per la password, andate qua in basso a destra, chiave personalizzata e mettete Pepe55. Molto facile, raga, eh. Entrate tutti! Per essere modi non dovete scriverlo, raga. Domenico, tranquilla. Domani verifica alla prima ora. Mannaggia i prof. No, ma come fai ad avere la verifica alla prima ora di lunedì? Che roba. No, la password non funziona più, quindi, raga, la password Pepe55 Pepe55 non funziona più. Ehm, pass. Marco pazzo. Sì. Ma, ma, Marco... Marco 91. Tutto quanto in grande. Vai, raga, pass. Marco 91. Marco 91. Una fetta? Cosa una fetta? Di... Vuoi una fetta di... Di torta? No, non te la do. Se venivi prima... Forse sì. Ora la fetta di torta gliela do a Marco. Non te la meriti. Gli do una... Un bel pezzo di... Figa... Eh... Di torta. Pezzo di... Allora, tutti quanti quelli che metteranno like fino a 30 ci sarà questo sconto che riceverete un pezzo di figa... Di torta. Tutti quanti quelli che metteranno like. Mi raccomando, quindi mettetelo. Se volete un pezzo di... È... Un pezzo di torta. Da parte mia. Ve la spedisco, raga. Ahaha. Ve la spedisco via Amazon. Ve la spedisco tramite Amazon. La fetizione, però, la dovete pagare voi. Eh, mi dispiace. Il tema? Che tema volete? Ditemi. Scegliete voi. Il tema lo ve lo faccio scegliere a voi. Però la fetizione la pagate voi. Oscuro, vai. Facciamo tema oscuro, vai. Tema oscuro, raga. Vai, tanti vogliono il tema oscuro. Tema libero. Tema... Libero. Tema oscuro. Ma... Tema oscuro. Cosa? Leggi la cacciocca. Tema pH. Dopo lo facciamo. Eh... Tema libero. Dopo facciamo tema libero, raga. Dopo facciamo tema libero. Let's go. Tema libero. Dopo lo facciamo, raga. Mi puoi invitare, raga? Dopo vi invito piano piano. Dopo vi invito piano piano. Voi intanto condividete la live con i vostri amici. Mi raccomando. Non mi va. No, no, raga, ma a tutti. Prima te è una vostra di giada rossa. È oscuro? Di giada rossa? Che schiena è giada rossa? Ma ti ho dato i centesimi sul caso di Google Play. No. Ma tu quanto hai donato troppo? Perché mi hai donato tutti quei soldi? Mi pianto. Mamma, io ti stupro. Appena ti chiamo. Pazzo, raga, è questa. Trattativa! Trattativa! Come stai? La pazza, il tema me lo sto spammando. Manuel Super, vai. Te l'ho accettata? Ma come non va, raga, che sono entrate dieci persone? Ma sono entrate dieci persone. Ora metto la password Gesù. Volete vedere come va? Guardate. Gesù. Nuovo abbonato da quattro mesi. DarkSide. Ma? Grazie, Dark! Abbonato da quattro mesi, signori! Grande! Mini broderino. Grazie, Dark! Grazie per i quattro mesi di abbonamento. Fra, vai, metti pronto. Che non va. Non va la password. Vabbè, vai, metti pronto, metti pronto. Grazie, Dark! Ti amo! Abbonato da quattro mesi, mamma mia! Già quattro... C'è l'abbonamento da cinquanta euro. No, mi dissocio. No, più nelle distanze. Mi dissocio, ragazzi, eh. La pazza, raga, l'ho cambiata. Gesù. Che funziona questa password, io mi dissocio, eh. Gesù 1. Password Gesù 1, raga, entrate. Bella Francesco, benvenuto! Ma la pazza ve l'ho scritta. Gesù 1. Che funziona la password Gesù? Che non funziona la password Gesù? Fortnite odia Gesù. 500 euro. È uno. No, lì sotto. È tutto in piccolo, raga, è tutto in piccolo. Non va? Però non va, non va, Revers. Ma sì che va, guarda, la gente c'è un lento. Ma ci sono quattro persone. Tommy Noob. Un po', dai, un po'. Abbastanza, Antonello. Abbastanza. Sto prendendo per il culo, in realtà funziona. Sono entrati, infatti, che va. Funziona, raga, funziona tutti. Funziona tutti, raga, funziona tutti. Entrate. Stiamo in dieci, entrate. A me vai, amo. Rara, come stai, rara? Da quanto tempo che non vieni? Come stai? Bella King! Tutto bene? No, ragazzi, la password di Gesù 1 funziona. Io mi dissocio. Io mi dissocio. Grazie mille a tutti quanti quelli che sono in live. Raga, va tutto. Va tutti, va tutti. Vi ringrazio a tutti. Siamo in 25. Se arriviamo a 30 spettatori, ragazzi, lo esco. No, no, mi dissocio. Se siamo a 30 spettatori, ragazzi, niente, sono molto felice. Vi ringrazio a tutti. A me non va. No, raga, funziona tutti, funziona tutti. Funziona tutti. Ah, ragazzi, siamo a 25. Dai, yeee! Condividete la live! Passaggio su uno, raga, passaggio su uno. Passaggio su uno, raga. Entrate tutti! Mi saluti. Sì, però devi dire così. Bella King's Eyes. Bella King's Eyes! Ciao, bellissimo! Aspetta, mi ti aspetta, amore. Ti aspetto. Dai, minchia. Ti aspetto, ovvio, che ti aspetta. Ti devi dal cazzo. Non ho fatto. Aspetta, no, no, no. Aspettate un attimo, raga, eh. Aspettate un secondo, eh. Che ora mi metto la webcam. Comunque, non per dire, eh. Ma manca un like. Un like per i 30. E ce ne vediamo! Uno che non ha messo like, raga. Uno di voi. Cioè, uno di voi che non sta vedendo la live, no? Dico io. Se non mi aspetta, ti rapisco Mario. Ma, 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 ma rapiscilo, per favore. Ma rapiscilo. Tema pH. Dopo mettiamo, facciamo un tema di pH. Grazie, di niente! No, va bollato. Marco è super simpatico. No, cazzo dici? Dadde! Dadde, ora non mi vedi. Dadde! Come stai? Da quanto tempo che non vieni? Dadde! Come stai, dadde? Tutto bene? Daddone! Daddone! Come stai? Bellissimo mio! Il mio daddone! Daddone! Raga, un secondo che non sto vedendo la chat, eh. Che si sta baggando tutto. Si sta baggando tutto, ragazzi. Un secondo. Uella, dadde! Come stai? Tutto bene? Come stai, fratello? Tutto bene? Come stai? Vai, raga, ora starto. Ora starto, perfetto. Come stai, dadde? Sei un bot? Posso entrare? No! No, ma no! No, ma questo è bullismo. Tutto, 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 tutto. Che andiamo? Tutto, tutto, tutto. 20 persone. Ok. 5 minuti startiamo, eh. Ok. Cos'è il tema PH? No, 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 mi dissocio. No, no, no. E il tema PH, ragazzi, praticamente è un arancione e nero. Cioè, è un po' troppo difficile da spiegare. Uè, bella, Cristian! Come stai, Cristian? Tutto bene? Tutto, tutto bene, tu, marda. Tutto bene, dadde, ma... Fare le live in questo momento, come sono in questo momento ora, non tanto bene. Mi sto solo che stancando. Paro pesce? No, no, no. Il pesce, però, lo prendiamo un'altra volta. Che cosa è scritto? Grazie, Fafo, per l'iscrizione. Benvenuti in live. Come stai, Fafo? Comunque, bella, Fafo, benvenuti in live. Spero che ti faccia la live. Ciao, bello. Funziona a tutti, raga, la password. Funziona a tutti. Funziona a tutti, funziona a tutti. Allora, andate tutti quanti al centro, mi raccomando. Tu, Marco, se puoi, vai in mezzo. Tolgo un attimo lo schermo. Non posso abbassarmi. Perché io mi abbasso col triangolo. No, no. Ma come non ti puoi abbassare? No, no, ok. Allora. Turu, turu. Non va, ma come non va? Ma ci ho appena assortato, Fra. Ma ci ho appena assortato, sono entrate 20 persone. Marco, vai, entra un attimo, per favore. Chiedo a chiedere certa gente. Te l'hanno andate al centro, vi killo. Manu, ti sto per killare e bannare. Decidi te. Ti sto per bannare. Vuoi essere bannato? Se vuoi essere bannato, dimmelo, ti banno ora. Vabbè. Vabbè, aspetta un attimo che lo banno. Vabbè, ora lo banno a mano. A me non lo scherchio. Dai, io ora vado un serotone. Un saluto. Ciao, dadde. Buonanotte. Buonanotte, dadde. Buona grazie, buonanotte. Una grande buonanotte, daddoni. Bella, Mambu, benvenuto. Vabbè, tanto amore il killo, questi. Mamma, che bambino di merda. Oh, mamma mia. Gesù Cristo. Aspetta un attimo. Mamma mia, che bambino del cazzo. Dio, merda. Ma questo si pensa di farmeli incoglionire, ma dico io. Perfetto, raga. Killati. Killati tutti. Eccolo, Tommy. Killati tutti. Oh, boss. Andate al centro. Andate al centro. Per live ti posso capire. No, te dovi. Buonanotte, dadde. Fatelo fra i suoi tutti quanti, raga. Fatelo fra i suoi tutti voi, raga. Abbandoni? No, fra. Non posso abbandonare. Aspetta la prossima. Gerke. Benvenuti tutti quanti quelli nuovi live. Comunque, raga, ho killato quelli che dovevo killare. Il stream sniper. Dopo, a fine live, ragazzi, ricordatemi di bannare Manu. Se lo banno. Ricordatemi a fine live di bannarlo, eh. Qualcuno di voi in live che mi ricordi. Anto, se mi riesci a ricordare di bannare Manu, mi fai un favore. Io ho fatto lo spray. Allora, fatelo spray sotto di voi, ognuno di voi. Fatelo spray. Posso scorrere? Sì, sì, Anto, vieni qua. Vieni qua, Anto. Dove stai? Ah, eccoli. Allora. Andrei nudo, ma... Che cazzo. Bella, bella, Cato. Benvenuti in live. Come stai, Cato? Tutto bene? Ciao, bellissimo. Come stai, Cato? Raga, tutti quanti quelli che si iscrivono, mi raccomando, attivate la campanella. Attivate la campanella, raga. Tutti quanti quelli che si iscrivono. Ve lo ricordo. Grande Manu. Attivate la campanella, raga. Vi ricordo che chiunque si iscrive, attiva la campanella. Lascia un bel like e lo ringrazio. Come sempre, grande Marco. Grande Cato! Salve, bella, Marianne. Come stai, Marianne? Tutto bene? Cosa mi racconti? Senza il backpack, ovviamente, raga, non possono partecipare. Non hai il backpack, quindi non puoi, Fran. Non puoi. Non puoi andare. Questo c'è l'anonimo. Non può partecipare. Perfetto. Anonimo. Ma non mi leggi? Ovvio che ti leggo, Silvia. Ovvio che ti leggo. Allora. Posso partecipare? È bella, Leo. Benvenuto. Ovvio. Ovvio, ovvio che puoi partecipare. Leo, benvenuti in live. Come stai, Leo? Tutto bene, eh? Allora. Raga. Posso partecipare? Ovvio, ovvio, ovvio che sì. Tutto bene? Più o meno, dai. Più o meno, più o meno, Fran. Più o meno, più o meno. Tutti quanti possono partecipare, raga. Tutti quanti. Ma ce l'avevo lo genetto. Ma come ce l'avevo lo genetto? No, no, Fran, non ce l'avevo io, lo genetto. Non l'hai messo. Riccardo non aveva il backpack. Sì, sì, ma quelli che non avevano il backpack, killagli. Dopo mi puoi invitare, se no devo andare. Ma perché? Cioè, se non puoi... Silvia, non posso, non posso. Non posso, Silvia. Non è che se da altri ti invitano. Non posso invitarti, brother. Da no, lo dovrei fare con tutti. Allora. Fatemi vedere un po' la vostra emetica. Avevo il cuore nero, non l'hai visto. Ma, Fran, è impossibile come roba. Ma io, Fran, non ti ho visto con il backpack. Non ti ho visto. Ma no, ma che cosa mi combini? No, Fran, ma che cosa mi combini? Eh, oddio. No, Fran, no. Non mi piace. Devo andare a dormire, che domani è scuola. Ciao, Leo! Buonanotte! Buonanotte, Leo! Buonanotte, frate, ma... Buonanotte, ci vediamo. A dormire... Non do... Ah! Ah! Eh, no, Fran, no, non posso. Non posso, Silvia. Va bene, in tal caso, vieni domani. Silvia, io ti aspetta domani. Io sì, vedo, aspetta domani. Era tema oscuro? Sì, sì, sì. Era tema oscuro, era. Fammi vedere il... Il coso. Ok, vai, va bene, vai, dammi. Bella, Dark! Tutto bene? Tu come stai, Dark? Tutto bene, eh? Come stai, Dark? Ah, ma tu, Marco, non puoi partecipare. Questo non è tema oscuro. Non è tema oscuro. Lol. Non è tema oscuro, fra quello. Ma vai, va bene? Bella, Tommaso! Tommaso, vi invio la richiesta e usiamo un po' di più. Ma questo non è tema oscuro, raga. Questo, raga, non è tema... Ma... No. Guarda dove è scegliata. No, comunque no. Non era bello. Ma, no. Ma, raga, un secondo, ma... Io che cazzo sto dicendo? Bella, Gioele! Guarda dove cazzo sto dì. Aspetatemi. Buonanotte, Silvia! Ci vediamo domani! Vai? Vai, Fra? No, Fra, ma che cosa mi... Ma, raga, ma che mi metti che mi mettete? Ma che mi metti che mi mettete? Dark, Dark. Dark, sai cosa devi fare, vero, Dark? Dark lo devi fare per Tommy. Dark lo devi fare per Tommy, Dark. Mi raccomando, Dark. Alla verità, mi marco, Dark. Oh, così ti voglio. Così ti voglio, tesoro. Così ti voglio, tesoro. Un cuore per te. Allora, fatemi tutti quanti un ballo. Anto. Aspetta. Allora. Vediamo un attimo. Fatemi tutti quanti un ballo, raga. Fatemi un ballo, fatemi un ballo, raga. Fatemi un ballo, fatemi un ballo, fatemi un ballo. Ti amo, Tommy, pure io ti amo. Pure io ti amo, Dark. Come sempre. No, Fra, ti voglio bene, ma no. Ti attiviamo. Ti voglio bene, ma no. Mi dispi, fratemi. Allora. Sei il mio idolo, grazie, domato. Grazie, brother. Sono davvero felice. Fatemi un ballo. Tu, Manuel. Ti amo, Tommy, pure io ti amo. Tanto. Fatemi un ballo, fatemi un ballo, fatemi un ballo. Tommy, dimmi tutto. Siam, dimmi tutto. Quando mi fai così mi fai paura. Dimmi, dimmi. Tutto, tutto, tutto. E fai paura. Dimmi tutto, Siam. Allora. Allora, fatemi tutti quanti un emoji, raga. Fatemi vedere la vostra emoji. Taratta, tatatta, taratta. Tutto, tutto, tutto. Fatemi un emoji. Dopo, appena finito questo, posso entrare anch'io. Ovvio, fra, ma tutti possono entrare. Tutti, raga, possono entrare. Tutti. Tutti. Tutti quanti, raga, possono entrare. Tutti. Dico tutti quanti. Sono Gioele, ciao. Bella Gioele. Giovedì, ho preso quattro la verifica. No. Ma no, ma che stai dicendo, fra? Questa sono 18, 19 persone in live. Lei, per caso, uscite mentre non c'ero? Sì, fra, te l'ho uscito mentre non c'ero. Per fortuna che non c'ero, vaga. Sennò se te lo uscivo mentre c'era, era un grande problema. Raga, fatemi un emoji. In tal caso, potete... Quelli che sono là, potete venire qua? Ehm... Ehm... E coso? Potete venire qua? Ho spaccato un bicchiere e goti a caso. Ma come hai fatto a prendere quattro nella verifica, veramente? Ma come hai fatto? Ma come hai fatto a prendere quattro nella verifica? Face bianco e lo S7. E allora fra il rip. Ora, Ant, in questo momento è... Bravo, Ant, ti le spingo. Oh, Ron. Bellissimo. Ragazzi, ho un'area potentissima. Ho un'area potentissima e riesco a respingere tutti. Appena punto qualcuno riesco a respingere tutti. Guardate che roba. Allora. Fatemi un ballo di nuovo, sono in seconda media. Ma no, però non mi vuoi prendere quattro in seconda media, dai. Allora, no, basta, basta. Allora. Fatemi di nuovo un ballo, raga, per favore. Tutta la grazia ha preso tutta in fisica. Ma quale? Nella tua? In scuola ho preso cinque. No, no, no. No, dai, da questo mi dissocio, però. Allora. Allora. Raga. Eh, ti voglio bene, ti voglio bene, Manuel, ma no? Ti voglio bene, ma fra, ma te no? Allora, chat, vi faccio scegliere a voi. Chi preferite? Sì, nella mia. No. No, lol. Non posso credere a una roba del genere. Non posso credere a una roba del genere, fra... Oh, Tommy. Dimmi, Ligona. Io devo andare. No, 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 non te lo andare, ti prego. Resta con il tuo ammone. Però devo venire. Fallo per Tommy, resterai. Eh, io domani. Eh, ma essendo che Tommy lo ami, resterai. Lo stesso. Ah, 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 ah. Sto verso l'una ti arriverà una donazione. No. No. Devi stare solo in live. Allora, chat, scegliete. Chi preferite? Uno. No, no, no. No, no. Vieni, vieni. Allora, chi preferite? Uno. Due. Che si sta ingroppando un cavallo. Forte. Molto forte. Ci sta andando. O tre, raga. Intanto Anto si sta mettendo di culo, ragazzi, perché vuole far vedere il culo. Anto, ragazzi, si sta mettendo di culo. Intanto c'è Dark Side che sta continuando a spammare il suo tasto di uno proprio così. Uno. Ma dove cazzo è finito? Uno. Due. O tre. Eh, intanto Dark che sta continuando a fare... Allora Bravo bravo Dark Bravo Dark Così si fa Allora Uno 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 Tre Uno 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 Tommy mi ascolti E' ovvio No Marco non piangere ti prego dai Siamo Non puoi piangere per favore Non piango pure io Ragazzi Che vuole avere queste motte bellissime In chat siamo in 16 Se voi volete avere queste motte bellissime Ora faccio il money Ora Marco faccio il money grabber Per 10 secondi Faccio il money grabber per 10 secondi Abbonatevi tutti quanti al canale Se volete avere queste motte bellissime ragazzi Abbonatevi tutti quanti al canale Obbligatorio No sto scattando Però se volete avere queste motte bellissime Abbonatevi Ok basta Finito di fare il money grabber Allora Tutti quanti uno Stanno scegliendo qua Eh 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 Bra Alla 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 Let's go G per in assolo dark Troppo forte Troppo forte Pro Stanno tutti Perchè non ascoltare tutti e antobolizzato antobolizzato perché sono uscito io lavoro io la vorrei ma non posso potrei averla se mai su twitch e io raga ci sono su twitch ci sono invita adesso ovvio chiamo forte mano 861 già accettato amicizia e mi devi dire come ti chiami dark dark dimmi come ti chiami o eccolo qua il nostro dark il nostro dark ha togliato la richiesta dark dark o amore mio ma dark ma ciao bello ciao bellissimo mio ma come stai tutto a posto tutto a posto quanto mi mancava la tua bellissima voce ricordi quella cosa che tipo ancora quella volta che eravamo in tre persone allo alle due di notte allora tipo si parlava di tua mamma il caso parlava no no tipo perché per tiente facevamo il bug per impiccio no era del ball la villa beach la come cazzo si chiama quello ancora ci soffre ancora ci offre ci soffre di quel ballo ma quando mi stavi chiedendo sai cosa voglio da te quando mi stavi per far vedere la mimetica io pensavo volessi il balletto che mi avevi regalato ahahahahahahah quindi era la che lo cercavo questo assurdo ragazzi diciamo arrivare a 40 like comunque ho messo la password sium1 no scusatemi sium password sium1 ma mia dark ancora si è abbonato tutti se ne vanno va bene tutti se ne vanno era il giorno che mi ero abbonato è quello che siamo stati ancora quella da quella volta che ti sei abbonato basta tu hai lasciato l'abbonamento sempre non lo toglierai mai più in che non arriverai al baggio di 24 metri appena arriva quella di 24 niente stop no scherzo sto scherzando bro io lascio andare sinceramente una volta mi ero pure dimenticato di essere abbonato poi ho visto ah minchia sono abbonato vabbè adesso batte un cazzo ti hai sburato ragazzi vai fra metti pronto non l'ho messo pronto no sium1 ma dark ma quanto è bello l'ultimo emoji che ho fatto quale quella che piange ci sta l'ho pagato 30 euro con le mop adesso la spammo perfetto il conciso raga è sempre lo stesso l'ho scritto tutto come sempre ah facciamo così se arriviamo a 50 like continuo fino a mezzanotte tiriamo a 50 like entro le 11 oh ma non è entrato ancora nessuno eh tiriamo a 50 like entro le 11 e mezza continuiamo fino a mezzanotte ta-na-na ta-na-na adesso vado su telegram e ti spammo vai fra vado nel gruppo quello là di 96.000 persone tutti in live ta-na-na 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 raga per tutti quanti quelli che sono in live io mi ricordo che ho un codice di new world dicendo che oggi hanno dati due mi manca l'ultimo codice di new world tu lo sai che quel gioco è dark no è un gioco bellissimo per pc costa 40 euro molto spettacularis invece io lo vendo a 20 è un gioco di 40 euro ma io lo vendo a 20 assurdo no 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 un pc sono povero bro vabbè però è l'abbonamento da tommy che è molto più importante un pc questo è anche vero o non mi carica i messaggi cosa mi significa no no ci sono bella cristofaro benvenuti in live facciamo tema non spammare francesco facciamo tema mi sta esplodendo il telegram ti sta esplodendo la mano il tema raga io direi che un bel tema rosso ci sta tema rosso raga entrate la pasta si humo 1 vedi che funziona lo schema è mio amo ovvio 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 è ovvio cosa devo fare? cosa? per entrare devi mettere la password si humo 1 dopo che hai messo la password si humo 1 selezioni selezioni la tutte quante le modalità e poi in alto c'è scritto codice isola tutto quanto in alto ma raga entrate ma come non va? anzi non sai mettere la password cioè una volta non sei entrato brother una volta non sei entrato fra una volta chi? no cosa parlando con me? no 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 è fanco francesco dopo in tal caso brother basta spammate devo mettere in time out la password va cioè me lo dice anto dovete riuscirla a mettere voi raga dovete riuscirla a mettere voi bene c'è francesco telegram un tizio ha scritto 3v3 all di napoli cosa mi significa? o napoletani o niente o è un grande è un grande che lui è un grande non puoi dirne nota è un big big grande è un big grande ce l'ha molto grande mi dissocio no ovviamente c'è la grande la persona il pc l'automira la lampadina non va a dio ma a me ne scrivi bene brother tanto scrivi bene impara la grammatica vai dalla maestra e dighi maestra e fammi imparare la grammatica bra bra uno ha scritto cerchiamo uno per completare trio competitive con la v finale non con la e no mi dovrei dissociare? si prendere le massime distanze bravo tu Darko mi avevi detto che avevi la mia stessa età? o hanno meno o hanno meno o qualche maniera non lo so di che anno sei 2005 allora no io sono 2006 non va bene perché? perché dovevi essere 2005 ma vanculo basta ratibullizzo no sto scherzando ci sono così pochi madonna quanti eravamo prima? ora siamo in 10 ho vinto io vanno via tutti perché sanno che sono troppo forte assurdo non va no raga va io sono 2007 vedi questo è bullismo allora ragazzi in chat scrivetemi quanti anni avete vai vai ragazzi vai let's go di che anno siete? vai ragazzi scrivete in chat la vostra età o di che anno siete? ho 5 anni no bambù il nostro bambù ha 13 anni attenzione grande Cristo grande Omar ha 12 anni adesso arriva uno che è grande no e niente ma come è niente 13 aspetta ma tu sei 07 io ho 14 anni bravo eh appunto potrebbe non averli ancora compiuti fra ah io ho ragione 2001 come se 2001 no 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 devo sentire la voce di Drex come 2001 seriamente seriamente eh seriamente se il 2001 no 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 devo sentire la tua voce perché devo sentire la voce di Drex perché dice che 2001 sì ma c'è un altro dicembre aaaaa che bullismo questo sì che bullismo però allora essendo che siamo quasi vicini a dicembre manca poco eh oltre a ricevere i regali e riceverai pure il mio di regalo va bene va bene Anto e riceverai pure il mio regalo nulla si mi manda la richiesta subito sono curioso sono curioso così che secondo me è tanta robetta è una tanta robetta ehm trattino basso bianco ovviamente mi chiusciamo dal bianco non pensiamo male eccolo tutti quanti a letto Drex intanto inviami la richiesta per unirmi per unirti io per poco non ero non ero un 2006 come si mette la pazza come si mette la pazza basta che vai se le metti la password vai su tutte quante selezioni tutte quante le modalità di fortnite poi tutto quanto in basso è scritto codice matchmaking selezioni codice matchmaking e metti la password 014 assolutamente ragione ti amo Tommy anche se sono sham no Tommy è mio basta è vero aspetta ma ora c'è un conflitto tra te e anto perché io sono anche di anto cioè voglio il fatto di chi sono ora aspetta non ho capito io l'ho più grosso aia eh questo non posso saperlo di chi ce l'ha più grosso come no bro eh eh cioè vorrei dire eh 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 cioè io mi piace mi è entrato un cazzo in gola ragazzi scusatemi era il mio ieri sera tutto quanto bianco allora era il tuo Tommy tu mi tradisci da mesi con Mario ma non è vero ma chi se lo caga chi se lo caga sinceramente bene Gennaro benvenuto guarda che Gennaro viene da Telegram Gennaro sono un grande Gennaro glielo ho detto anch'io solo Gennaro è un grande solo perché viene da te beh sì tu Gennaro sei un boss fosse stato Anto sarebbe stato brutto no no dai mi dissocio chiunque tu sia Anto ti voglio bene anche anche io lo voglio l'uomo grande Gennaro ma cos'è ma l'hai invitato così a random sono andato su Telegram nel gruppo quello da 6.000 persone ho scritto tutti i live da da Tommy ok ma qual era il tema scusa ma ho detto il tema non ho detto il tema c'è uno che fa lo user oddio che c'è lui l'ha matto subito quello che ha fatto il loser oh aspetta io non sento Fade non so io si lo sento io lo sentivo Fadez prova a parlare oh ma mi ridono in faccia questi oh ma no non lo sento fra aiutami fra come se qua sale tommi dimmi dimmi prova a parlare ehi buonasera bella vabbè un po' un po' si sente la voce da gran ti stavo dicendo una cosa comunque gioco da poco quindi tante cose non ho dai tranquillo infatti poco ho fatto tanto ci sono tanti schifi qua ci sono tanti tanti kid vabbè tanto penso sai cosa significa no ma ci sono dei set che veramente mi fanno rimpiangere di aver giocato a sto gioco ieri per caso sono entrato su youtube ho visto la live di tommy sono entrato sparato perché è da tre giorni che ce l'ho alla play oddio da tre giorni da pochissimo ma vieni no nocciolino lo ammazzo subito bravo non mi interessa non ci ho comprato fammi vedere uuuh il pack ma tu già ma tu lavori bianco vedi questo qua questo qui lo ammazzo subito vai ho aperto anche questo no guarda lì guarda lì no mi contengo solamente perché siamo in live no no sono per quello se la mi muto inizio a bestemmiare perché e stanno lodando lui ma non è giusto è bullismo è bravo 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 bellissimo ah raga fatelo preso se vuoi per favore fatelo preso se vuoi sono domani devo andare a scuola quindi non ho letto sei tranquillo dark non vogliamo le teste di non vogliamo le teste di ma voglio ma mi date un'arma comunque dopo questa ragazzi dopo questa dopo questa ragazzi stacco fra ma mi sa che joke legend ha un'arma no no si 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 glielo ho data io fra glielo ho data ma fra perché non mi sono trasferito mi sono trasferito troppa mi sono trasferito proprio che si arriva a camera mia ma troppa ma troppa ma troppa ma troppa ma troppa ma troppa mi sono trasferito però non so quale se glielo aiuteresti non mi troppa l'arma se tempo si no 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 mi dissociano fatelo preso tutti voi per favore bravissimi ma non mi troppa l'arma ma fra ma è normale ma non deve partecipare lui glielo ho data lui glielo ho data lui ma non deve partecipare no eh ma guardi glielo ho data io qua eh ma scusa io cosa che faccio accetta Tommy ma non dovevo averla io scusa comunque bianco si è proprio vuoi supportarmi se no che tu hai detto che sei maggiore n giusto si se proprio vuoi supportarmi vuoi anche te avere qualche soldo in più se vuoi dopo te dico come fare ok tu 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 io non so il tipo di fidi io non so il tipo di fidi delle cose di oggi tipo delle carti di credito che si fanno online prego ti prego ti prego ti pago io su tic tocco ti poto 1300 follower ci sa quindi vedo prima di salire un po con l'acqua su youtube ci sa oh ma cos'è ti è andato un video viriale sicuro ho avuto un video quasi un milione di visualizzazioni porco allora tanta roba eh si mi hanno pure già donato in live un po' di cose quindi aspetto proprio eh ma ti sento poco perché c'è un bordello tra la televisione non sento proprio proprio una minchia ma un gino un gino ma sei proprio tu proprio il dongino Tommy Tommy dongino dongino è lui dongino ho un 104 FP ma il mio dongino ruba bambino fammi vedere ma io di preciso sono qua senza motivo faccio niente guardi il culo di Tommy le due sembriamo marito e moglie però ok ma perché hai dato lo scaro a lui adesso ciao perché lui è un fregno sì ho capito ma come te allora non si possono non si possono sdoppiare come non si possono ecco scusa sì che si può eh non si possono sdoppiare ecco vedi ho trovato la mia sorella le troppe la sorella adesso vado in live come stai sorella la mia sorella ma per me hai dato la mia medica ma sei un bullo gli hai rubato la mia medica no no non ce l'ho io bullo bravo vedi Anto è bravissimo no sorella ma che cosa mi convini un'altra sorella ciao sorella sorella 3.0 come sta amore mio fammi vedere oh vedi che tu sei un amore quasi stai innamorando la cosa non è vedi ti merito un abbraccio ti merito bravissimo pure da ti merito un abbraccio amore mio ma no ma che cazzo allora no adesso ascolta mi ammazzano 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 nocciolino nocciolino è un figlio di brava mamma nocciolino nocciolino già che sto volando uso le hatch ragazzi aspettate allora fate un attimo fate tutti quanti un ballo fate un anonimo fra qua c'è un anonimo c'è un anonimo si ai 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 dark cosa mi combini mi sento inutile no no tu sei un amore essendo che non sei voglio ammazzare nocciolino essendo che non sei inutile guarda aspetta si ho capito ma voglio ammazzare nocciolino ma che c'è carino che vedo qua guarda lì ah ma lui tutti e due sia l'occiolino che l'altro mi ritro dai no no mi ha fatto niente io mi ha fatto niente mi ha fatto niente bellissima la tua corrata si fate tutti quanti un ballo raga ecco questo l'ha già fatto ho dato un colpo di scar a deathbull ecco ho fatto bene ha chiamato lo scar no cosa ti posso fare chi potrebbe abolitare si ma il colpo di scar glielo devo dare io hai capito attenzione bianco sto cercando di di fare qualcosa comunque diventa abbastanza bene eh vuole dire eh si guarda pure da posteriore dai se non mi dai lo scar sei francese allora mi potete fare un ballo ragazzi quelli che sono qua per favore fatemi un ballo o vi denuncio dammi lo scar o sei francese oddio come glielo tocca vai vai ora te lo tocco dongino ti tocco il bambino let's go allora quanto ti devi muovere ho dato un colpo di scar a let's go l'ho fatto bene allora in quale siamo rimasti qua a giocare ma quale è il stesso set ma è il stesso set scusatemi cosa è il stesso set questo no 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 si nocciolina da ammazzare tutto stesso set muoviti muoviti dammi lo da me allora io ho preso questo personaggio ok ora Anto sto scrivendo sto scrivendo se sì o no sto scrivendo no questo pesciolino così però non so come sto scrivendo Anto gli inviti non posso Falco è da uccidere ammazzate nocciolino che è il stesso set tutto muoviti è il stesso set Anto Anto è il stesso set si ok perfetto chi è che manca uno due tre perché io io ho detto tema rosso per quello tema rosso perché Falco non posso fra allora mi dissocio allora chat ci siete oh madonna so se non la finisci di in cura la sorella di non finisci Don Gino Don Gino ha vinto bravo bravo dragon ora dragon vai nell'angolino veloce la infondo muoviti ammazzati anche nell'angolino tagliati nell'angolino muoviti vai e andarti tagliati 109 depresso che si beve le monster fan culo no no francesco ma non me lo dire così francesco adesso adesso Francesco ha francesco sta bullizzando tutti francesco bullo allora quattro seguite tra don gino e rubò bambino tutti don gino scrivete don gino e don gino o ruba al bambino ma chi sceglie ragazzi don gino o ruba bambino ruba bambino se no il allora don gino rubò bambino o no no dark side cazzo che li ho sbagliato volevo dire no no scusami per quello che è stato ucciso il gioco perché era un pesce fra ieri 77 non c'è come il stesso set palco se tutti abboni su twitch e prova che faccio entrare a voi di chi c'è ragazzi 1 1 2 1 1 2 faccio come facevo con me stile guardami ma le guarda ora ma tentamente negli occhi molto negli occhi ecco questa musica in sottofondo scusate 1 2 1 1 1 1 1 1 che ma ora che ha scritto ciao dark fallito in modo no mi dissocio in chiesa messo anche la c francesco no un altro ma sono insultato dark piccione no vabbè non lo spacco ovviamente dragon io ti amo ma io ti amo ma che cazzo dice ti voglio bene ale ma devo tradire amore ma sto pregando per te andiamo don gino ruba bambino ha vinto don gino è il ruba bambino succhi succhia il bisellino nooo aspetta ma sei la play da tre giorni come fai ad avere il balletto che era di natale scorso ti spiego no giochiamo in una sala ma 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 assurdo e poi fu così che comprava Compro l'account 1v1 su Fortnite Subito Allora Va bene vieni Dragon Allora Se vuoi prima di abbandonare Fai questa roba Poi ovviamente sempre se vuoi farla Se vuoi anche sostenermi Allora Ragazziotti Cazzotti Piccoli Bamboni Donginoni Rubabambinoni Io ringrazio tutti quanti Quelli che hanno guardato la live Ho dovuto staccare ma sei tranquillo Fuori io raga staccare la live Dovevi bannare Mi pare Come è che si chiamava No no Ah bravo bravissimo Bravissimo Sburata Oh ma ora stacco Sono abbonato Ma non è vero Allora Che abbonato si vede Allora Ragazzi che dirvi Bacci baci No comunque Raga per tutti quanti È vero Sì sì è vero È vero Che sei buonato Non ti invito apposta Perché lo faccio apposta Sono strano Questa skin Sicuramente voi Non l'avrete Questa skin È molto skin Allora Che dirvi Io raga ringrazio Principalmente ancora Al signor Che non c'è Il live Lo ringrazio Tanto Per quello Che ha fatto Cari amici Volvers No 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 Mi dissocio Mi dissocio No no Prendo le moche Ovvio che si è abbonato E non l'hanno Nera Ci vediamo Domani No non so Se domani ci sono In live Forse dopo domani Domani Siamo tutti morti Tommi Non puoi Penso che Una bomba Atomica Esplode Sul mio La mia E nulla Noi ci vediamo Domani Che è bellissima Le notte Ah comunque Devo mettere Tre abbonati su tre Cioè tre abbonati Su cinque Che volevo dire Chi è che si è abbonato Due si sono abbonati Come due Doponati Sì Ma chi Ma quando Ma perché No no Solo uno Solo uno Che era stato Marco Tre so cinque Siamo quasi vicini Voi a credervi Ci vediamo domani Con un nuovo Vai Ciao bellissima Buonanotte Ciao Falco Il budget è scomparso Ovviamente sto scherzando Anto Anto tu schiumi Ciao bellissimi Ciao Buonanotte Tutti Ciao